Questo è un manifesto della mia storia politica e lo ribadisco tutte le volte che posso, non sono una persona che si fa condizionare, non sono una persona che si fa ricattare. Penso che questo debbano fare i politici e sicuramente quello che faccio io, non ho altro da dire su questo. Per quello che riguarda Le Pen, Orban, eccetera, no, Le Pen è FD, chiedo scusa. Intanto, allora, lei ha citato la Commissione, torno al tema, in questo caso il Parlamento non è la Commissione perché la Commissione, no, però la Commissione sono governi, no, e non sono partiti di governo quelli che lei cita, quindi non è un tema che si pone per la Commissione, è un tema che si pone per il Parlamento, la maggioranza è in Parlamento. Allora, io normalmente non sono una persona, diciamo, che ama dare patenti anche per ragioni di storia, come lei sa, sono due partiti che non fanno parte del partito europeo che io ho l'onore di guidare, che è il Partito dei Conservatori Europei. Credo che, mi pare evidente oggi che con AFD non ci siano, ci siano, diciamo, delle distanze insormontabili, sono diverse, potremmo citare diverse, ma insomma, partire dal tema del rapporto con la Russia, sul quale invece, per esempio, il Rassemblement National di Marine Le Pen, secondo me, sta facendo un ragionamento interessante. Dopodiché, ripeto, non sono una persona che ritiene di dover distribuire patenti e ritengo che anche quelli che, diciamo, quando ci sono, una riflessione che va fatta è che quando ci sono dei partiti in grandi democrazie europee che prendono il 20 e il 30% dei consensi, ci si deve anche interrogare su come rispondere a quei cittadini. Ma questo non lo dico per me, lo dico rispetto al tema, diciamo, delle classi dirigenti europee, perché evidentemente qualcosa non funziona, no? Delle risposte che si stanno dando. Questo è sicuramente una valutazione che va fatta. Dopodiché, ripeto, insomma, sono chi più distante, chi meno distante. Io lavoro per ora, soprattutto, con i conservatori europei e questo mi interessa. Grazie, Federica Valenti, Agi. Buongiorno, Presidente. Lei ha definito anche poco prima la riforma costituzionale la madre di tutte le riforme, la riforma più importante. È chiaro che se verrà approvata dal Parlamento e dal referendum, che a questo punto sembra inevitabile, sarà necessaria una riforma della legge elettorale. La mia domanda è quale modello lei vede più adatto al premierato, se ritiene che ci sia una soglia minima per raggiungere, ottenere il premio di maggioranza che va fissata, e se crede nell'abolizione delle liste bloccate, con la fedeltà alla posizione sempre espressa da Fratelli d'Italia a favore delle preferenze. Allora, guardi, qual è il modello... è una cosa sulla quale non ho ancora ragionato. Qual è in generale il modello di legge elettorale? E tra l'altro anche questa è una materia che probabilmente spetterebbe in via prioritaria al Governo. Posso darle le due risposte precise che lei mi ha chiesto. La soglia ci deve essere per forza perché lì c'è una materia costituzionale che lei ricorda arriva già da vecchie sentenze della Corte Costituzionale che dice che per il premio di maggioranza ci vuole, e che in generale, ci vuole un range che non sia troppo alto tra i voti che si prendono e le persone che si eleggono. E come lei sa io sono favorevolissima alle preferenze e quindi al ritorno delle preferenze l'abolizione delle liste bloccate. Lo sono sempre stato, sono stata l'unica che ha avuto il coraggio, lo dico anche a quelli che oggi ce lo spiegano, di portare in aula gli emendamenti, in tutte le leggi elettorali puntualmente proposte a sei mesi dal voto per tentare di apparecchiarsi il risultato delle elezioni non ha mai funzionato, però abbiamo avuto molte leggi elettorali che sono cambiate e in tutte queste leggi elettorali che sono cambiate, o in tutte quelle in cui ho avuto la possibilità, io ho presentato un emendamento per introdurre le preferenze che è stato puntualmente bocciato, quindi io sono assolutamente favorevole, chiaramente poi bisogna valutare con il Parlamento quali sono gli altri partiti che sono favorevoli. Grazie, Livio Cipriano, Agenzia Nova. Buongiorno Presidente, buon anno. Nel DDL Capitali che è stato approvato in prima lettura in Senato c'è una norma sulla nomina dei consigli di amministrazione che senza scendere in tecnicismi rischia di rendere ingovernabili alcuni gruppi nazionali con la conseguenza di una fuga di investimenti esteri. Volevo sapere se è qualcosa all'attenzione del Governo e che cosa ne pensava. Grazie. Ma guardi, penso che questa lettura che è stata data non sia corretta, cioè la lettura per la quale si rischia di renderli ingovernabili, si rischia di allontanare gli investimenti. Quello che questa norma fa di fatto è limitare il meccanismo attraverso il quale in alcuni casi si perpetuano all'infinito i CDA a prescindere dai soci. E chiaramente al mercato normalmente una previsione che rafforza il peso degli azionisti piace, per cui io non ci vedo, anzi ci vedo una norma che consente forse di avvicinare investimenti rispetto a qualcosa che non ha sempre funzionato perfettamente in passato. Presidente, a questo punto buon pomeriggio e buon anno. Hanno suscitato polemiche le parole della senatrice di Fratelli d'Italia, Lavina Mennuni, che ha detto che la prima aspirazione delle ragazze deve essere diventare madri. Lei che ne pensa? È d'accordo? Guardi, allora intanto io ho sentito molto spesso polemiche su frasi di questo genere, anche su cose che ho detto io in passato, su quello che ha detto il Ministro Roccella. Riguardo alla dichiarazione alla quale lei fa riferimento, io non so dirle se la parola aspirazione sia una parola giusta, però posso dirle una cosa. Io sono Presidente del Consiglio dei Ministri, sono forse la donna considerata oggi, che potrebbe diciamo temporaneamente considerata essere tra le più affermate in Italia, e se lei mi chiedesse cosa scegliere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e mia figlia Ginevra, io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre. Perché? Per questo dico non so se l'aspirazione sia la parola giusta, no? Perché la maternità ti regala qualcosa che nessun altro traguardo ti può regalare. Se il concetto è questo lo condivido. Qual è il concetto che non condivido? Il concetto che io non condivido e non condividerò mai è che un traguardo debba toglierti l'opportunità dell'altro. Cioè molto spesso quando io mi sono occupata e quando ci siamo occupati di politiche per la maternità, per la natalità, ci è stato detto che le politiche per la maternità e per la natalità sono nemiche del lavoro delle donne. Non lo accetto. E il modello non sono io, guardi. Si citava prima Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sette figli. Roberta Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo, quattro figli. Si può fare. Si può fare. Allora qual è il messaggio che secondo me va dato? Il messaggio che secondo me va dato è non c'è bisogno di rinunciare una cosa per un'altra, fai tutte le scelte libere della tua vita, quello che dobbiamo fare noi è costruire gli strumenti per favorirlo. particolarmente nel rapporto tra maternità e mercato del lavoro e non è un caso che io mi sia occupata e noi ci siamo occupati col governo prevalentemente delle madri lavoratrici, perché se lei guarda i provvedimenti che noi abbiamo portato avanti sono concentrati sulle madri lavoratrici e in generale sui genitori lavoratori, no? Quindi il tema dell'estensione del congelato parentale per entrambi i genitori, il tema della decontribuzione per le mamme lavoratrici che hanno più di due figli, il tema dell'asilo per il secondo figlio, diciamo così, gratis, eccetera, il fringe benefit che aumenta se sei un dipendente con figli. Cioè io voglio smontare il racconto che se tu metti al mondo un bambino ti precludi a altre possibilità. Che in parte è un racconto, in parte no, perché è vero che le donne sono ancora troppo discriminate, soprattutto per il fatto di essere potenziali madri o madri. e quindi io voglio lavorare su questo perché non accetterò mai di piegarmi all'idea che la maternità debba diventare nemica di altre possibilità che hai nella vita. Nient'altro di quello che puoi fare nella vita secondo me ti può regalare le emozioni che ti regala la maternità ma questo non deve precluderti tutti gli altri traguardi che vuoi portare avanti. Questo è quello per cui io lavoro e questo è, diciamo, anche dimostrato da quello che in questo anno il governo ha portato avanti. Grazie, Teresa Trillo, Radio 24 Buongiorno Presidente Si è sentito, eh? Eh, lo so Comincio ad avere degli sbarioni Prego, mi scusi, mi scusi No, scusi lei Io tornerei su un tema economico di fatto le pensioni La manovra quest'anno proroga solo per quest'anno quota 103 in asprendo alcuni requisiti Per quest'anno cosa intende fare? Intende riaprire il cantiere sulla riforma delle pensioni anche proprio sulle uscite anticipate che è un tema mai risolto e anche Grazie a tutti